Il 27 luglio 2021 abbiamo portato 10 pannelli verniciati con i prodotti Ica Arborea Bio a Punta Penia, a punta della marmolata a 3.343 metri, per sottoporli ad un test di invecchiamento naturale con condizioni climatiche estreme. Dopo due anni siamo tornati a Punta Penia per verificare lo stato dei pannelli. Sei di loro sono tornati in laboratorio e altri quattro hanno continuato il test. Tornati da Punta Penia, i pannelli sono stati sottoposti ad una valutazione secondo la norma ISO 4628. Questa norma ci ha potuto dire che le caratteristiche della superficie verniciata sono rimaste intatte, quindi lo sfarinamento, lo sfogliamento sul bordo e il colore sono rimasti esattamente quelli dell'inizio del test. Oltre a questo abbiamo potuto valutare anche la variazione della brillantezza della superficie e anche qui i risultati ci hanno detto che la brillantezza è rimasta la stessa per tutto il periodo.